Professor Castagna, al laboratorio di meccanica arriva la tavola vibrante, un'altra novità qui al Mennella. Sì, è stato un importante progetto che è durato un anno per costruirla, nel senso che si è partiti da un'idea molto importante, cioè quella di educare, di far rinascere una coscienza antisismica nei giovani, perché è importante capire anche con mezzi semplici. E vediamo un po' le funzionalità. Sì, le funzionalità sono diverse in relazione a quello che è il modellino, adesso ne abbiamo costruiti due, per poter abbracciare quelle che possono essere le principali cause in relazione a quello che è l'elemento vibrante, cioè la forza vibrante che viene applicata alla base. È chiaro che questi tre oscilloscopi, cioè in effetti stanno a rappresentare dei pendoli rovesci che hanno una diversa rigidezza anche in relazione a quella che è la lunghezza dell'asta. La questione è questa, che si dimostra in scienze delle costruzioni che quando c'è risonanza, cioè quando le due frequenze, cioè la frequenza propria del sistema vibrante con la forza applicata a base, raggiungono la stessa frequenza, si dice che vanno in risonanza. Quello è il momento di massima sollecitazione. Ecco, questo spiega come è possibile capire il fenomeno, per esempio, che abbiamo visto a Matrice, come il campanile così alto, con lo stesso terremoto che è arrivato a tutto il paese, le case più basse sono andate giù, mentre il campanile, magari con un'altezza molto più sicuramente consistente, che è rimasto lì in piedi. Questo, diciamo, è il caso proprio di questi tre pendoli rovesci che hanno una diversa rigidezza, dove alla base noi possiamo, tramite un convertitore statico di frequenza, possiamo cambiare la frequenza e quindi possiamo andare a variare quella che è l'ampiezza di oscillazione, quindi il periodo di oscillazione con la frequenza, e arrivare alla risonanza propria del pendolo rovescio. E in questo modo si capisce perché in un certo momento il pendolo B oscilla, mentre gli altri due stanno fermi, pure applicando la stessa frequenza. Aumentando sempre di più, in questo caso, la frequenza, il pendolo più alto si ferma, quindi non vibra più, pure se alla base sta applicata la stessa frequenza, ma che inizia il secondo, così poi aumentando la frequenza, poi inizia il terzo con il fatto che sia. Adesso ecco, stiamo assistendo a questa dimostrazione, cioè il professore sta variando appunto un sistema alla frequenza, si vede che gli altri due pendoli stanno fermi, mentre solo quello che ha la rigidezza più alta, praticamente sta vibrando. Adesso aumenterà sempre di più la frequenza, ecco, vediamo che la tavola sta vibrando, quindi il periodo di oscillazione sta diminuendo, cioè mette meno tempo a compiere l'ampiezza totale, si è fermato il primo pendolo e parte il secondo, con un'onda, praticamente un'oscillazione più forte, perché, ecco, alla base, vediamo, la tavola si sta muovendo con una frequenza maggiore, quindi aumenta ancora la frequenza, quanto sta? Più o meno? 1,85. Ecco qua, sta partendo, sta andando in risonanza il secondo, quindi questo è il caso che alla base arriva un'onda sismica con quella frequenza, l'edificio più alto non vibra, mentre l'edificio più basso, questo è successo, per esempio, ad Amatrice, e il contrario, nel 2012, con il terremoto nell'Emilia, cioè tutti i capannoni alti invece sono andati giù, mentre le case basse, ad Amatrice il fenomeno inverso, questa è la dimostrazione del motto che abbiamo scelto sulla, sulla, si aumenta ancora, adesso il secondo si ferma, ecco, il primo non sta vibrando più, non ci interessa più, questa è la dimostrazione del motto che abbiamo scelto sulla, sulla brochure che abbiamo preparato, tutto si muove quando arriva un terremoto ma in maniera diversa.